Buongiorno, grazie di avermi invitato, grazie al Ministero dell'Istruzione del Merito, grazie a Indire che sostengono questo progetto, grazie alle autorità politiche e della società civile che sono intervenute e grazie a Carmine Marinucci, presidente di Decalter, che mi ha chiesto di portare il mio contributo su un tema, a dire la verità, un po' spiazzante, un po' inatteso. Provo ad affrontarlo in questo modo. Dunque, guarda caso è questione di questi giorni, quella domanda virale che gira su TikTok e che voi potete trovare, che è questo. Se ti perdessi da sola in un bosco, preferiresti incontrare un uomo sconosciuto o un orso? Ecco, le risposte che sono pervenute sono stranianti, sono spiazzanti. C'è qualcuno che scrive, bah, se l'orso mi aggredisse, la gente poi non mi chiederebbe come ero vestita. Oppure, l'orso non dovrei poi rivederlo alle cene in famiglia. L'orso non mi chiederebbe scusa, promettendomi di non farlo mai più. E poi c'è chi dice, bah, io preferirei di gran lunga un orso, perché se fossi aggredita da un orso e poi lo raccontassi, almeno mi crederebbero. Ora, di che cosa ci occupiamo? Purtroppo la cronaca dei nostri giorni è piena di episodi di violenza contro le donne di femminicidio. E quando abbiamo pensato a quale cantiere digitale per le ragazze digitali proporre per l'anno scolastico 2024-2025, la sollecitazione ci è venuta dalla cronaca, dai fatti problematici, che purtroppo puntellano i racconti quasi quotidiani. Dunque era l'anno scorso quando, in occasione dell'ultimo femminicidio, quello che ha scosso forse di più l'opinione pubblica della povera Giulia Cecchettin, che il sottosegretario, l'allora sottosegretario alla cultura, intervenendo in una trasmissione sulla SET, Vittorio Sgarbi, diceva questa cosa, studiare bene Renzo e Lucia dei Promessi Sposi è più educativo rispetto a educare a comportamenti e principi che diventano poi quasi delle forzature. Ora, un po' di anni prima, in un'udienza del mercoledì in Vaticano, era Papa Francesco a dire questo, dicendo, voi italiani nella letteratura avete un capolavoro sul fidanzamento, ed è necessario che i ragazzi lo conoscano e lo leggano. Era il 27 maggio del 2015 e Papa Francesco parlava dei Promessi Sposi. Non più tardi di qualche settimana fa, Umberto Ganimberti, non ha bisogno di presentazioni, in un'intervista alla stampa diceva questa cosa, se riempissimo le aule di letteratura, di libri, di storia, piuttosto che di computer e di altri orpelli digitali, probabilmente alleveremmo dei cittadini migliori, capaci di voler bene, capaci di amare. Ora, lo so che è un paradosso mettermi a parlare di questa cosa, di letteratura, disincentivando l'evoluzione digitale in un format che si chiama The Calter per la cultura digitale, ma che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato questo. Abbiamo pensato che nelle nostre aule di scuola, quotidianamente, i nostri studenti e le nostre studentesse incontrano un sacco di donne maltrattate. E non sono le loro compagne, voglia al cielo che non lo siano, non sono neanche le loro insegnanti o altre figure di riferimento in carne e ossa che popolano una scuola. Sono piuttosto delle donne di carta. Sono donne che incontrano nei libri. Sono Madame Bovary, Emma Bovary. Sono una donna che fugge in un bosco, inseguita non da un orso, ma da un uomo a cavallo, che la cattura, la sventra e ne dà le viscere in pasto ai cani. Questo succede in una novella del Decameron. È una ragazza senza nome, inseguita a Vaprio d'Adda da tre giovani in una novella di Verga che si intitola Tentazione. È una ragazza con un nome, un cognome, un casato, Marianna de Leiva, diventata poi dopo Suor Virginia, che tutti noi conosciamo come Gertrude, la monaca di Monza. Ora, l'Atlante dei femminicidi, l'Atlante delle violenze nei confronti delle donne non ha confini, non ha zone franche. Va dalla profonda Sicilia della lupa di Verga al nord, a Saluzzo del marchese Gualtieri nell'ultima novella del Decameron, va dall'Inghilterra di Chaucer di Shakespeare alla Francia di Flaubert, va dalla Milano, dalla Roma, del pasticciaccio brutto di Gadda o di Voci, il romanzo di Dacia Maraini. Quante donne incontrano i nostri ragazzi quotidianamente quando si fa letteratura? Allora, abbiamo bisogno di influencer a scuola per insegnare educazione affettiva? Forse no. Forse i nostri ragazzi, più ancora le nostre studentesse, hanno già a disposizione degli influencer, che si chiamano Dante, Petrarca, Doccaccio, Manzoni, che si chiamano Giovanni Verga, che si chiama Pierpaolo Pasolini, che si chiama Gustave Flaubert, che si chiama Dacia Maraini. Ecco, quello che noi proponiamo è questo. Lavoriamo per l'anno prossimo a partire da queste pagine scomode. Si può fare educazione affettiva naturalmente proponendo delle pagine ireniche, che idealizzano il rapporto amoroso tra un uomo e una donna. E si può fare prevenzione all'abuso ed educazione affettiva anche attraverso queste pagine scomode. Noi proponiamo un cantiere in cui le ragazze e i maschi, le classi insieme, perché questo non è affare soltanto delle studentesse e non è neanche affare soltanto dei maschi, perché nel momento in cui noi dividessimo questi due gruppi continueremmo con quell'antagonismo quasi ancestrale, che poi dopo motiva o giustifica alcuni comportamenti. Allora noi proponiamo questo cantiere per le ragazze digitali del 2024-2025. È un cantiere europeo, perché come ripeto non ha confini questo Atlante dei femminicidi e delle violenze. Proponiamo questo, proponiamo di riflettere sulle storie di alcune di queste donne che la letteratura ha eternato e di lavorare su queste, con il linguaggio tipico e caratteristico del mezzo digitale. Quindi costruendo sulle storie di queste donne che la letteratura ci ha consegnato, dei trailer, costruendo delle storie, costruendo dei TikTok, costruendo dei prodotti, si chiamano unità di apprendimento, se li volete chiamare, o prodotti finali dell'unità di apprendimento o compiti di realtà, poi dopo saremo più specifici, quando poi dopo divulgheremo il progetto con il bando, perché le classi lavorino su queste storie, facendo rivivere, ridando voce a queste donne che la letteratura ha menzionato e che poi sono sepolte nei libri. E quando uno chiude la copertina di un libro è come se chiudesse una lastra tombale, cade sopra la storia di queste donne, ci si commuove un pochettino, poi dice va bene, e poi si incomincia a discutere di questioni letterarie, filologiche, stilistiche, senza capire che l'aspetto di rimente è il contenuto, il merito di queste storie, non il metodo con cui sono state scritte. Perché proponiamo di farlo sulle pagine della letteratura? Perché non farlo sulle storie di cronaca? Purtroppo i giornali e la vita di tutti i giorni, la vita quotidiana, ci offrono e ci offriranno, purtroppo, ancora casi su cui riflettere. Allora perché non fare degli approfondimenti sull'ultimo femminicidio avvenuto? Il materiale è ancora caldo, le notizie sono ancora fresche, ma magari il corpo è lì ancora, in attesa delle ultime perizie. Ecco, che differenza c'è tra fare della cronaca e occuparsi di questi dolori attraverso le pagine della letteratura? E la differenza la fanno le parole degli scrittori, perché la letteratura ha parole più affilate rispetto alla cronaca, perché gli scrittori che si sono occupati di questi argomenti nello specifico l'hanno fatto con una puntualità, con una meticolosità, oserei dire anche con una cattiveria stilistica che nemmeno il miglior giornalista ha. Non c'è prurigine in questo, non c'è curiosità, non c'è quell'aspetto inquisitorio, indagatorio. Quello che interessa agli scrittori nel momento in cui raccontano queste storie strazianti non è individuare il colpevole, che nelle pagine della letteratura è perspicuo sin dall'inizio, ma è capire le ragioni, è capire il cuore, capire il perché, non capire il come. E quando noi leggiamo le pagine delle violenze contro le donne raccontate da questi grandi scrittori, ne siamo scossi, ne siamo scossi esattamente per la cattiveria sottile, permeante che c'è nelle loro pagine. Allora, noi proponiamo che il cantiere Ragazzi Digitali del 2024-2025 lavori su queste pagine. Gli studenti le troveranno antologizzate in un testo, di cui adesso non faccio pubblicità perché non è questo il luogo e il momento, ma le troveranno anche nelle pagine delle storie della letteratura che i loro insegnanti avranno il coraggio di proporre. Ne troveranno alcune in questo testo già analizzate, nelle loro pieghe più sottili, anche procedurali, anche processuali in alcuni casi. Pensate agli atti del processo contro i colpevoli dello stupro alla monaca di Monza e alle sue consorelle. Lì ci sono persino le minuzie, ci sono, e poi troveranno altri spunti di altre storie, si potrebbe purtroppo andare avanti all'infinito. Nomi di donne, pensate alla protagonista della storia di Elsa Morante, nomi di donne sulle quali i nostri ragazzi e le nostre ragazze potranno indagare per tentare di capire quali sono le ragioni che portano l'uomo a compiere gesti di questo tipo. Ora, se è vero che si dice sempre che la storia è maestra di vita e studiare la storia a scuola serve per perpetuare le stesse scelte buone e per evitare di commettere gli stessi errori, allora la letteratura lo è ancora di più, maestra di vita. E leggere e accostare queste storie scomode dovrebbe insegnarci a invertire la tendenza. Se è vero, come dice De Ciamaraini in un'intervista contenuta nel libro che vi dicevo prima e che poi i ragazzi avranno in mano, che lo stupro, la violenza di genere, è un fattore culturale più che un fattore naturale, allora si può fare qualcosa. Se appartenesse alla natura uno lo darebbe quasi per inevitabile, ma poiché appartiene purtroppo alla nostra cultura è lavorando sulla cultura dei nostri ragazzi a scuola che si può invertire la tendenza. Grazie.